Allora, la storia parte dal luglio del 2009, 22 luglio del 2009, vengo fermato da una pattuglia dei carabinieri a Casalvelino Marina, circa 300 meri da casa di mia madre, verso le luna di notte e niente, i carabinieri erano lì per fare dei controlli con l'etilometro. Non avevo commesso nessuna infrazione, avevo la cintura, andavo alla velocità giusta, non avevo commesso nessun tipo di infrazione. Faccio l'esame, il test, al primo test risulta una tassa alcolemico pari a 0,9, al secondo a 1,1, in pratica l'equivalente di due birre medie. Dopodiché comincia il calvario, il mio calvario tra ospedali, che è un calvario che era già cominciato anni addietro. Comunque, le mie condizioni di salute peggiorano, ero già disabile nel 2009, quando sono stato fermato dai carabinieri, ma non ho usato la scusa della disabilità, e forse avrei dovuto farlo. Nel 2011, purtroppo, al seguito di tanti interventi, si decide di procedere all'amputazione dell'arto, perché è l'unica cosa che può cercare di salvare un po' la mia situazione fisica. Nel frattempo questo procedimento penale va avanti. Io sicuramente non lo seguo come dovevo, e non faccio tutto quello che dovevo fare. Ho chiesto aiuto ad una persona che conoscevo, un legale, che ha seguito la cosa fino ad un certo punto, poi a un certo punto l'ha lasciata, senza però che io ne sapessi niente, poiché leggo che aveva problemi di incompatibilità con il suo nuovo incarico. Il procedimento diventa penale, va in sentenza. Insomma, la sentenza è che devo scontare 30 giorni di carcere e un'ammenda di 400 euro più altri tre mesi di sospensione di patente. Fatto sta che il 21 agosto vengo convocato dai carabinieri di Vallo in caserma e mi notificano questo provvedimento di arresto definitivo e comincia la mia avventura in carcere. Vengo portato in carcere, carcere di Vallo della Lucania, dove vengo schedato, contato, perquisito e trattato come un criminale qualunque, messo in una cella con altri sette detenuti. Non era un carcere adatto per chi aveva commesso un reato come il mio e d'altronde era assolutamente sovraffollato e invivibile. Potevo avere accesso a una serie di provvedimenti alternativi al carcere, dovevo avere accesso a una serie di provvedimenti alternativi al carcere. Sarebbe bastata fare un'istanza che non è stata fatta, sicuramente perché io non ho seguito il caso a fondo come dovevo, c'è stata non curanza da parte mia, mi prendo tutta la colpa su questo. Però bisogna anche capire che una persona che sta vivendo un dramma non si interessa tanto di seguire un iter o una pratica che sembrava, insomma, io credo di aver pagato ben abbondantemente con la sospensione di patente, col fatto che non ho avuto la patente per anni. Poi vengo trasferito in questo carcere di Salerno e da lì non sento più nessuno, non sento più il mio avvocato, non ho più notizie. I miei amici fuori, i miei parenti, mia sorella, mio amico Romeo, sua sorella Silvia, si danno un grande affare per capire cosa fare per farmi uscire, perché i giorni passavano e non si riusciva ad ottenere questi benedetti domiciliari. Sono state dette delle inesattezze, sicuramente, perché non è vero che mi hanno tolto la protesi in carcere, mi hanno soltanto impedito di deambulare con i bastoni e di tenere il bastone col quale mi accompagno quando porto la protesi. Comunque la mia situazione era assolutamente disaggevole, non potevo sicuramente vivere il regime carcerario come lo facevano gli altri e non era prevista una cella per disabili oppure approntata per disabili. Insomma, era una condizione per me molto scomoda e molto dura. Io sono amputato ad altezza dell'anca, sono un disarticolato d'anca, quindi ho una disabilità importante, certo anche se mi è stato riconosciuto soltanto un'invalidità pari al 75%. Niente, è una disabilità di una certa importanza, immagino, di dover vivere con una gamba sola, ma quello che mi preme sottolineare è che io non intendevo non scontare la pena perché disabile o volevo delle scappatoie perché disabile. Io sono stato sul letto per tanti giorni, sempre sul letto, ho cercato di mantenere la calma, ho cercato di andare d'accordo con i detenuti, con i secondini, con tutti. Ho cercato di non farmi prendere dalla rabbia, ma dentro di me c'era una fortissima rabbia, un fortissimo stato d'ansia. Ho cercato però di mantenere quel bricciolo di dignità, quel bricciolo di calma che mi permettesse poi di andare avanti senza peggiorare la situazione. Il carcere per me stava diventando veramente duro, soprattutto non sapere quando sarei uscito e sapere che tanta gente si è mobilitata, tanti amici si sono mobilitati per farmi uscire, si sono messi in prima persona, hanno rischiato tutto per cercare di far sì che venissi liberato. per me è una cosa che mi commuove e che mi dà forza, mi dà coraggio. Sapere di avere persone che ti vogliono bene, che lottano per te, è una cosa che fa bene. Io, disabile o meno, credo di aver pagato da incensurato un prezzo altissimo per un errore, sì, un errore commesso perché ho commesso un errore, non si guida in stato di ebbrezza, chi dice il contrario? Non si guida in stato di ebbrezza, anzi, il messaggio passi forte, ma c'è un tasso alcolemico basso rispetto alla pena che mi è stata inflitta, i giorni non passavano mai. L'umiliazione di vederti dietro le sbarre è indescrivibile. Si vede che sono disabile. Se devo trascinarmi delle borse dietro o devo essere portato in un altro reparto, in un'infermeria o in un ospedale, non devo essere costretto a indossare manette, non devo chiederlo come un piacere, non devo supplicare di non essere trattato come un criminale, dovrebbe essere una cosa semplice da vedere, invece non è così, sei sempre lì a doverti umiliare. Io che sono una persona che ha sempre cercato di vivere con dignità la propria disabilità, in questi giorni è stata messa a dura prova la mia dignità.